oggi non rivediamo i movimenti vedremo alcuni movimenti che sono principali che spiegano lo spirito dello finito ci vuole l'arte del corpo e l'arte dell'interno devono essere in armonia una con l'altra la tecnica in chinesi sarebbe suicidarsi sulla pietra tombale ci sono le tre armonie esterne e le tre armonie interne la prima è la mano in armonia con il piede il gomit la spalla con l'anca quando si esce la mano e il piede vanno in armonia ma anche per il piede la spalla con il piede il città più al fondo quindi il città più alla parte la città più al fondo Il nostro corpo è sordine. bisogna sciogliere leggermente il tetto i gomiti vanno sempre tenuti bassi come le spalle e quindi in particolare la direzione avanti e dietro si può stare a mezza via, bisogna arrivare a fondo della posizione quando si torna indietro non è un movimento di gamba ma il basso tantiene porta indietro il corpo il corpo viene ripetato indietro non è solo strisciato il passo questo è la direzione avanti e dietro è della più semplice c'è il giro di sottotitolo ora vediamo di destra e sinistra ok, lo stesso è il giro di sottotitolo e questo è il giro di sottotitolo Non bisogna perdere il braccio, il gomito deve rimedere vicino al corpo, il gomito e l'interno vanno insieme, il gomito e l'interno vanno insieme, la mano e il corpo continuano ad essere la stessa unità. Ok, questo è il suo, però se fosse il suo bravo, il suo bravo non è una semplice rotazione destra sinistra, dal l'interno vanno insieme, il suo bravo è una rotazione orizzontale, mantenendo la sua rotazione, non è una semplice rotazione destra sinistra. l'asse centrale ben dritto. Il corpo non deve avere un movimento alto-basso, non deve evitare di fare troppo alto-basso. Se faccio troppo questo movimento alto-basso va a finire troppa forza nella spalla. In qualunque momento si ruota bisogna sempre mantenere la connessione con il centro e l'armonia. Il braccio non deve ondeggiare come una foglia al vento. Se va alla spalla il corpo non va bene. Le seremonie tutte assieme. Connessione delle seremonie e tutto va assieme. Non si può usare la forza. E' come una macchina per le pulizie. E' il centro che va e tutto il resto segue. E' come una macchina per le pulizie. Se questo si muove tutto il resto segue. E' come una macchina per le pulizie. 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 E' come una macchina per le pulizie non mangiare. Tempiare nel malattico per le pulizie proprietà. E' si veri questa fluidità di movimento. Si diventa esterni e si perde la forza interna. il centro non partecipa. Ora vediamo destra-sinistra, rotazione destra-sinistra. Ora vediamo destra-sinistra, il centro non partecipa, non partecipa, non partecipa. La rotazione è all'interno, l'interno ruota per primo. Il gomito in armonia con il ginocchio, vanno insieme. L'interno ruota per non partecipa. Non è solo il suo scegliere, ma non è solo il suo scegliere, ma è solo il suo scegliere. Il suo scegliere è sempre il suo scegliere, quando si sono scegliere completamente in un'escegliere, In questo modo la forza diventa fluida. Se c'è solo l'arte del corpo, la forza diventa troppo dura, troppo fisica, e quindi va a sbattere. Non c'è questa forza di come avere una gru al centro che muove i carichi. Quindi bisogna affondare. Affondare non vuol dire sedersi. Perché sedersi è un'azione esterna. Quando si è soltanto, si è soltanto. Quindi, da questo giù, da lì, da lì, da lì, da lì. E la forza da sotto viene fuori. E la forza da sotto viene fuori. E si finisce nella posizione arco-preccia. La forza da sotto viene fuori. E' un'azione esterna. La forza da sotto viene fuori. Se non si sta bene, allora la forza da sotto viene fuori. Si. La posizione arco-preccia non è presa correttamente. Si perde il C. E' un'azione esterna. Il secondo è che non è fuori. Il momento è fuori. Non si può bloccare la posizione, perché altrimenti il chi non scorre. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione. Il chi deve arrivare fino all'area del tantieno, ma non andare oltre. Deve fermarsi lì, in modo che le gambe siano leggere. Altrimenti, se il chi scende fino a terra, le gambe diventano pesanti e si rimane piantate nella posizione. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione, ma non si può bloccare la posizione. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione, ma non si può bloccare la posizione. Il chi non scorre, ma non si può bloccare la posizione, ma non si può bloccare la posizione. L'interno semplicemente si schiaccia. Le costole e il tantienche generano la porta. La mano deve essere rilassate. Questa è la direzione alto-basso. La mano non deve perdersi, non devono diventare troppo soffici. Non si può disconnettere da questa forza. La forza dall'interno, attraverso le spalle, esce fuori. La forza dall'interno, attraverso le spalle, esce fuori. Vediamo il passo ora. Il passo del gallo. Deve essere chiaro il pieno vuoto. Nella camminata del gallo si parte con la postura dell'orso. La forza dell'orso. il passo che si segue sempre l'armonia, mantenere sempre l'armonia tra spalle anca, gomito ginocchio, mano piede, le tre armonie esterne. L'armonia tra l'intenzione, il ci e la forza fisica. ... Quindi quando hai chiamato il corpo, hai chiamato il corpo, il corpo, il corpo, il corpo e il corpo. Quindi il corpo è una tensione presjSS. Quindi le tre armoni esterne, la spalla in armonia con l'anca, il gomito in armonia con il ginocchio, il polso con la caviglia unita alle tre armonie interne, cioè l'intenzione e con il combo mistrop enände con il ciò. e in armonia con il Jin, con la forza fisica, queste due coppie di tre armonie si devono unire per formare le sei armonie, e queste sei armonie devono andare tutte assieme. All'inizio è facile che si abbiano le tre armonie esterne, e molti le fanno già abbastanza bene, tuttavia mancano le tre armonie interne. Ma le tre armonie esterne. Ma le tre armonie esterne. Le tre armonie esterne da soli non sono sufficienti, perché le tre armonie interne sono gerarchicamente più importanti, quindi se ho solo le tre armonie esterne non basta, devo avere le tre armonie esterne controllate dalle tre armonie interne. Questo è il motivo per cui io insegno di assicurare che il tre armonie esterne è perfetto. Per questo che io cerco di vorrei farvi capire l'importanza che ha avere le armonie esterne perfette. Quando sono molto precise e perfette, da lì poco alla volta si generano le tre armonie interne. Prendiamo sulla piatta tombala. Quando... ...questa ricetta si è fuggida sulla piatta tombale. Questo... ...dolo è giusto, è giusto. Questi sono le tre armonie esterne. in azione. Questa invece sono le tre armonie interne in azione. Quando ci si affida all'interno il risultato è diverso. L'interno fa qualcosa. Non è l'esterno che agisce. Sembra molto forte quando agisce all'esterno. All'armonie si devono fondere in una. Quindi così si ottiene una porta molto superiore. L'importante è l'interno di tre armonie interne. E quindi si attende a casa. Non utilizzare il movimento. Il movimento è un'attività. E quindi la vita si attende a casa. Si attende a casa,... ...sorla di te. E quindi, non solo. Quindi, il confu cinesi ha uno stile interno. Il confu cinesi è uno stile interno. Perchè. Il confu cinesi si basa sul... Il confu cinesi è uno stile interno. Quindi si basa sul uso dell'interno per... scaricare la nostra forza sul nostro avversario